Albano e Romina sposi di nuovo, il matrimonio dopo anni dalla separazione, la dolcissima richiesta dei figli, e, il sogno comune, ci sono coppie, come quella formata da Romina Power e Albano che restano tali anche a distanza di anni. I due si sono separati nel 1999, ma il desiderio di rivederli insieme di nuovo non si è mai spento nel cuore dei loro figli, la dolcissima richiesta di Iari, Christel e Romina. La loro storia d'amore ha tenuti incollati al piccolo schermo milioni di fan in tutto il mondo. Il loro rapporto si è inclinato dopo la scomparsa della loro primogenita, Ilenia. Una tragedia, questa, che ha allontanato i due. Dopo la separazione, Albano e Romina Power, sono tornati insieme artisticamente, e dopo un lungo periodo ricco di incomprensioni e litigi la coppia sembra aver trovato il giusto equilibrio anche per l'amore dei loro figli e dei loro due nipoti, Kai e Cassia Ilenia. Con gli anni, infatti, sono sono riusciti a costruire un rapporto solido fatto di stima e affetto reciproco. Nonostante il divorzio, i due artisti continuano ad emozionare i loro fan. Di recente, si è parlato di un riavvicinamento che non sarebbe solo artistico, che potrebbe addirittura portare ad un nuovo matrimonio. Secondo quanto riportato dal settimanale di Più i figli Iari, Christel e Romina Junior desiderano fortemente rivederli insieme. Nel dettaglio i sogno dei tre figli, è vederli di nuovo insieme sull'altare. In passato, Christel ha spiegato. La mia famiglia è sempre stata il mio rifugio. Regnava un'armonia meravigliosa, non è stato facile vedere i miei genitori prendere due strade separate. Questo ha sicuramente riacceso l'esperanza nel tanto discusso ritorno di fiamma tra una delle coppie più amate del panorama della musica italiana. Iari Carrisi, il secondo genito della coppia Romina Power e Albano, ha rivelato di voler smettere con un vizio che potrebbe provocargli gravi malattie e il figlio di Albano e Romina Power ha finalmente aperto gli occhi diventato consapevole dei rischi che può provocargli continuare a perseguire il vizio del fumo. Una sigaretta dopo l'altra e i polmoni marciscono sempre di più. Ma la cosa più atroce è che per un proprio vizio debbano pagarla i più deboli, quello che lo subiscono, gli animali. I due cantanti hanno educato i loro figli all'amore per gli animali e il solo vedere che ci sono alcuni di essi che soffrono per i danni comportati dal fumo fa soffrire il figlio d'arte. Pertanto, Yari, ha voluto sensibilizzare tutto raccontando del suo vizio, e del motivo che l'ha spinto a prendere la decisione di smettere. Una foto che parla da sola quella pubblicata da Yari Carrisi, ma che il musicista ha voluto commentare incentivando tutti a fare la scelta giusta. La foto mostra dei cani costretti ad indossare delle mascherine. Il motivo? Pare che il tabacco venga testato sugli animali per qua di tutti i brand di sigarette. Cani, gatti, criceti e tanti altri poveri cuccioli che in tutto il mondo vengono considerati animali domestici. Esistono metodi alternativi, ma i test sugli animali persistono. Il tabacco ingerito o assorbito passivamente dagli animali è estremamente dannoso per la loro salute. Gli animali che subiscono questa tortura sono costretti. Secondo quanto scritto dal figlio del noto duo a fumare dalle 6 alle 10 ore al giorno, da 5 a 7 giorni alla settimana. La modalità con cui vengono effettuati i test è davvero inquietante e la foto mostra esattamente questo. I cani, in questo caso, vengono armati di mascherina dalla quale proviene il fumo del tabacco che loro ovviamente sono costretti ad inalare. E come se non bastasse, vengono fatti dei tagli sugli animali in varie parti del corpo per valutare i danni del tabacco. Ecco cosa denuncia il figlio di Albano. Come sappiamo, il cantante di Cellino San Marco, ha avuto dei problemi cardiaci che lo stavano costringendo al ritiro forzato. Per fortuna, l'ex marito di Romina ha dimostrato di essere ancora abbastanza forte. Il malore non l'ha messo in panchina. Il cantante ha voluto partecipare alla realizzazione di un corso molto utile, che prevede il rilascio dell'attestato American Art Association e l'abilitazione all'uso del defibrillatore. Un corso che si terrà il 30 ottobre prossimo. A presentare il corso ci saranno due esperti di eccezione, il dottor Fausto D'Agostino, medico chirurgo rianimatore del Policlinico Umberto I di Roma, ma anche direttore dell'ITC American Art Association, centro formazione medica, ed il dottor Raffaele IV, medico 118 Brindisi, istruttore manovre di rianimazione, con il loro preparatissimo e autorevole staff. Il corso prevede l'apprendimento di un corso pratico di rianimazione cardiopolmonare e di manovre di disostruzione in presenza di soffocamento. Con questo corso ci si può assicurare un attestato dell'American Art Association e l'abilitazione all'uso del defibrillatore. Ad ospitare il corso è proprio il cantante nella tenuta di Cellino San Marco. Il corso prevede anche l'autorevole partecipazione del presidente della regione Puglia ONN, Michele Emiliano e del prof. Stefano Favale, professore ordinario di cardiologia dell'Università di Bari. Ma ci saranno anche volti noti del mondo della musica e dello spettacolo tra i quali Luisa Corna, Clio Evans moglie di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito in passato da un'emorragia cerebrale. Con un video interverrà anche Massimo Lopez. La vita in diretta, condotto da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano, farà un'incursione per mostrare la manifestazione anche al pubblico a casa. Al termine del corso verrà installato anche un defibrillatore presso la sua tenuta. Sono passati quasi 26 anni dalla scomparsa della primogenita di una delle coppie più amate e apprezzate del panorama della musica nazionale ed internazionale. La figlia di Romina Power e Albano Carrisi scomparve nel nulla nel lontano 1994, e da allora si sono completamente perse le sue tratte. Negli anni, sono state molte le ipotesi aperte sulla sua improvvisa sparizione, ma la speranza di poterla riabbracciare di nuovo non si è mai spenta nel cuore della cantante italo-americana che ha condiviso due appelli su Instagram che hanno commosso il web. Una ferita, quella provocata dalla scomparsa della primogenita, che probabilmente è destinata a non rimarginarsi mai. Sui social, l'artista ha pubblicato due annunci invitando chiunque avvistasse una donna che somiglia a sua figlia di contattarla. Sui social, numerose sono le persone che contribuiscono a diffondere la sua foto e c'è un utente che ha scritto.